Dove è la tua? Certo o meglio la? No, quello fa? Sì. Sì, vedi. Sì, vedi. Sì, vedi. Questi sono speciali, è una massa di cucinaio? No, no, certo. Allora, sceppa? No, adesso deve fare. Sì, vedi. Un esplorato? Il secondo dolore che... No, non ci sono saluti alla mia!